Qui alla Mossa d'Oltremare per festeggiare i 70 anni di Unicef siamo con l'imprenditore Mimmo Pesce e siamo onorati della sua presenza qui. Qual è l'importanza che da 70 anni riveste Unicef la presenza di questa manifestazione a Napoli? Unicef ha un unico significato, bambino. In tutto il mondo significa quello e chi ama i bambini non può non amare Unicef. E anche il mondo dell'imprenditoria è qui per testimoniare la vicinanza e il bisogno di dare dignità ai bambini del mondo. Quindi l'imprenditoria dalla parte dei bambini? Sempre, dalla parte dei bambini tutti, non solo l'imprenditoria. Perfetto, ringraziamo Mimmo Pesce.